24 anni, attivista pro-democrazia ed ex leader studentesco del Movimento degli Ombrelli, Joshua Wong è stato arrestato nelle scorse ore, insieme ad altre 53 persone, durante la maxi-retata della polizia che ha messo so'quadro il fronte dell'opposizione di Hong Kong. Già condannato a 13 mesi e mezzo per le proteste per le riforme democratiche del 2019, su Wong pende adesso anche l'accusa di sovversione. Wong, che adesso rischia l'ergastolo, è tornato alla prigione di Shaq Peek, ha scritto l'Apple Daily, il tabloid del tycoon Jimmy Lai. Anche lui in carcere per gli addebiti legati alla legge sulla sicurezza nazionale, imposta da Pechino. Dopo la retata della polizia, i funzionari cinesi di Hong Kong hanno etichettato le primarie come un tentativo di rovesciare e paralizzare il governo della città, bollandole come una minaccia alla sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti non staranno a guardare, ha affermato il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo, aggiungendo che Washington non esclude sanzioni. Mentre il ministro dell'Esteri cinese ha derubricato la minaccia di Pompeo, a follia finale di un'amministrazione uscente, alle proteste si è giunta anche quella dell'ONU, secondo cui gli arresti hanno confermato i timori che la legge sulla sicurezza nazionale sia effettivamente usata per detenere individui a causa dell'esercizio dei legittimi diritti di partecipazione alla vita politica e pubblica.